Talmente identificativi e forti sul panorama intellettuale e culturale. Benissimo a Gara, noi abbiamo dedicato a Te Lichiamo, che si vada a Antonella, a Maurizio, a Reggina, a Nostra Villa, Bernatino. I suoi studi nella ricerca della verità, la storica, su fatti che hanno segnato grammaticamente il nostro territorio. Che rivolgo sia ai cari del Redondo Preside, che a tutta la cittadinanza che oggi ho avuto qui raccogliessi per onorare il mondo. Grazie a tutti. Parola del Signore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti i saluti. Grazie a tutti. E' venuto a Casaglia, a Giovanni, verso le 14.30, in un anno in sonno. Io mi ho fatto entrare e lui mi ha detto che sono il figlio del professore Casaglia. Lascia un grande vuoto ma quello che è importante è che questo archivio diventi un archivio pubblico lui aveva manifestato interesse per la nostra proposta come centro impastato di Palermo di creare un memoriale laboratorio della lotta alla mafia e credo che anche nel memoriale che costruiremo a Palermo ci sono possibilità di realizzarlo ci sarà una parte dedicata ovviamente alle lotte contadine di cui suo padre è stato un dirigente e dedicato anche al suo lavoro.